Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Hai arato la luce per seminare le parole per i cani all'unisono col... Ma io ho detto sì. Sei stato, te l'hai preso nel presente, esente, assente, nei sensi, enzi, sì, 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 sulla tua magistra nudità inaudita. Sei salito, assaltando le tenebre, ingoiando ombrezza, corposa parfalla che vola, si riposa, posa lievemente sui sedi stellati del cielo. C'è, come la galla.